La situazione è drammatica e sono preoccupato. Il sindaco di San Lorenzo in campo, Davide Dell'Unti, lancia l'allarme per la mancanza di medici di medicina generale. Per cercare di risolvere al più presto il problema, il primo cittadino ha preso carta e penna e ha inviato una lettera ai direttori della Sormarche e dell'area Vassa 1 e all'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. Su 3.300 abitanti attualmente in servizio stabile abbiamo soltanto un medico perché uno è andato in pensione a settembre dello scorso anno e un altro purtroppo per motivi personali non può in questo momento proseguire la propria attività ed è continuamente soggetto a sostituzioni, oltretutto non in maniera stabile. Quindi l'appello che noi abbiamo fatto è quello ad Asur e per conoscenza alla regione Marche, all'assessore Filippo Saltamartini, alla sanità, è di stabilizzare questa situazione. Ha già avuto delle prime risposte dai vertici della sanità regionale? Sì, fortunatamente alcune risposte già ci sono state con un'ulteriore sostituzione del medico che non può proseguire la propria attività dall'1 al 18 con un medico più dal 19 in poi con un'altra dottoressa. Chiaramente sono sostituzioni sempre a tempo quindi non in maniera stabile e soprattutto dobbiamo assolutamente tornare a tre medici nel più breve tempo possibile. Ha lanciato un appello anche a tutti i medici di famiglia disponibili perché appunto ci sono questi posti vacanti? Esatto, l'Asur ha anche messo un avviso pubblico per due posti vacanti su San Lorenzo in campo e l'auspicio e l'appello che faccio anche tramite voi è quello che i medici di famiglia possono aderire a questo avviso e prendere servizio in maniera stabile e permanente qui a San Lorenzo in campo. Come ho detto anche nella stampa siamo assolutamente disposti anche a valutare delle soluzioni per un ambulatorio comunale o comunque dare una mano, un supporto importante perché soprattutto in un momento come questo di pandemia dove il medico di famiglia è un punto fondamentale di tutta la catena di salute e sanità per le persone, oltretutto anche per il piano vaccinale diventa fondamentale, il medico di famiglia non possiamo permetterci una situazione del genere in un comune come il nostro. E quindi ha detto servono certezze e soprattutto risposte eccelleri? Assolutamente sì, c'è bisogno di velocità, c'è bisogno di concretezza e c'è bisogno di persone, medici che vengano nel nostro territorio. Non possiamo rimanere con un medico che oltretutto sta facendo veramente di tutto e di più per dare assistenza all'intera comunità, ma non possiamo lasciarlo solo. Oltretutto andrà in pensione anche lui al dottor Di Francesco, andrà in pensione anche lui a ottobre, quindi poi iniziamo questa battaglia e questa sollecitazione, questo appello in maniera preventiva per non trovarci veramente a piedi in autunno.